Il dia 21 di februari prossimo, il Dio Mondiale di Lengua Materna. Nella roba, desde l'anno 2003, non stiamo a celebrare il SACI, per quale razione la Fondazione Lanta Papiamento lo tiene un charla di Riba e DIA ACHI. L'anno che la Fondazione Lanta Papiamento sta a organizzare la celebrazione del Dio Internacional di Lengua Materna qui dentro, nella Biblioteca Nacionale, il giorno di 21 di februari, una settimana di viernes, la settimana di noche, abbiamo un programma completo, il mio mestre ha una charla toccando l'existenza del Diccionario di Lengua Materna. Ho la gente lo sa, perché nel siglo XIX, 18-20, 18-21, è stata in Diccionario di Papiamento, in un'altra lista di parole di Papiamento, in un altro idioma. Quindi, lo mi dò un relato storico, toccando lo che non si chiama lexicografia di Papiamento, dirigì, direttamente arriva a la lista di parole di Diccionario. Puerta di e charla, también lo tiene musica, poesia, e principalmente Fondazione Lanta Papiamento lo presenta in una Directiva Novo. Ogni torta chiede a invitare a passare alla Biblioteca Nacionale per scelto i rimedi e a noci, va bene celebra il Dio Mondiale di Lengua Materna, il 21 di februari.